salve a tutti un amico mi ha dato la batteria della sua bici elettrica dicendomi che non funziona più mi ha detto che la bicicletta ha circa 5 anni e la batteria non viene caricata da almeno un anno quindi potrebbe anche essere che nel tempo si è scaricata ora la prima cosa da fare in questi casi è controllare se c'è tensione dopodiché provare a collegare il caricabatterie e controllare anche che il caricabatteria funzioni perché spesso mi è capitato che le batterie non andavano semplicemente perché non si caricavano magari non è questo il caso però io prima faccio questa prova dopodiché apro l'involucro controllo la tensione dall'interno ed eventualmente scollego tutte le batterie e prova a ricaricarle una ad una perché magari essendosi scaricate naturalmente può essere che si possono ancora salvare almeno qualcuna dopodiché utilizzando quelle batterie ed altre con la stessa tensione la stessa corrente magari riesco a ripristinare il pacco batterie senza far spendere un'enormità al mio amico acquistando delle celle nuove ok prima di tutto senza aprire l'involucro controllo la tensione questa è una batteria da 36 volts nominale quindi imposto il tester a 200 corrente continua ok non da segni di vita ora prova a controllare la tensione e contemporaneamente collego il caricabatterie carica batterie collegato ma comunque non arriva nulla per la mia esperienza ora i casi si riducono a tre o è colpa del caricabatterie o del bms cioè il circuito elettronico che si trova all'interno di tutto l'involucro e che gestisce carica scarica di ogni cella collegata o infine c'è qualche interruzione magari un filo che si è disaldato prova a controllare se il caricabatterie emette della tensione generalmente il positivo è all'interno ok non dà tensione ma non significa che non funzioni alcuni caricabatterie si attivano quando vengono collegati alla presa di ricarica del pacco batterie comunque faccio sempre questa prova perché spesso mi capita di escludere subito il caricabatterie perché la tensione in uscita è visibile ed è corretta ora vado ad aprire il pacco batterie ci sono delle semplici viti ora mando il video in velocità in modo da farvi vedere lo smontaggio ma in modo tale che non vi annoiate aperto l'involucro ho trovato questo pacco batterie sistemato con del nastro telato io lo utilizzavo nell'aeromodellismo però nei pacchi batterie non l'avevo mai visto più che altro perché non mi sembra un pacco batterie da fabbrica fatto ad hoc io non è che li faccio meglio però io lo faccio da solo cioè in privato non sono uno che fabbrica biciclette elettriche però il mio collega mi ha detto che l'ha comprata nuova ed è una bicicletta di marca non è una di quelle che è stata adattata all'elettrico è nata elettrica quindi vedere questo pacco montato in questa maniera mi è sembrato un po strano le batterie comunque sono montate su un telaietto di plastica e già questa è una cosa positiva il rimontaggio sarà molto più semplice rispetto a quelle volte che il telaio non c'è e quindi mi devo inventare io sia la posizione come avvicinarle come mantenerle mentre effetto le saldature e così via qui adesso rivelocizzo il video tolgo tutto questo scotch che hanno messo stando attento a non rompere i fili non perché poi non li taglio ma più che altro devo capire esattamente come hanno collegato il tutto perché poi dipende anche dai bms ecco potete vedere sopra il circuito elettronico il battery management system rispetto ad altri bms questo non è tanto scarso ha anche l'uscita per poter controllare con un pulsantino la tensione della batteria con tre led fondamentalmente si clicca se i led sono tutti accesi la batteria è totalmente carica diciamo che serve così per una questione visiva ma comunque quando vengono collegate alle biciclette ogni bicicletta c'ha il suo computer di bordo che sia un lcd ossia un altro tipo di computerino con i led comunque vi segnala quanto sta la batteria questa è una cosa in più giusto se avete la batteria scollegata dalla bici magari ce l'avete a casa per poterla ricaricare o semplicemente perché volete evitare di lasciarla in garage al freddo d'inverno ad esempio ora come potete vedere vado a controllare la tensione direttamente sul bms quindi vado su positivo e negativo per capire a quanto sta la batteria come avete visto sta a 3,77 volts e quindi la batteria è proprio a terra se era completamente carica sarebbe stata 42 volts se fosse stata invece semplicemente scarica come può essere normalmente una bici elettrica sarebbe stata sopra i 30 volt ma in questo caso non c'era proprio tensione stavamo sui 3 volt praticamente nulla faccio anche un controllo di tensione sulle celle in serie però poi alla fine scollego il bms e comincio a scollegare tutte le celle perché le devo provare a caricare singolarmente già qui il dubbio è che sia stata colpa del bms perché generalmente collegando un caricabatterie che funziona la tensione in uscita deve essere quella che eroga il caricabatterie se il multimetro non segna nulla è probabile che il bms non funziona o è il caricabatterie come abbiamo detto precedentemente però dato che c'è questa scarica anormale delle batterie sembrerebbe che sia colpa del circuito elettronico comunque lo scopriremo alla fine io già lo so perché sto montando il video però al termine vi dico com'è andata anche perché c'è poi tutto il rimontaggio ora che ho scollegato i connettori del bms procedo con la dissaldatura dei fili non li vado semplicemente a tagliare perché non voglio accorciarli più del dovuto dato che non sono ancora sicuro che sia colpa del bms inoltre dopo aver dissaldato i fili uno a uno con il cacciavite e altri attrezzi devo staccare tutte le lamelline di nichel che collegano tutte le varie celle e quella è la cosa più non tanto complicata ma rognosa in questo caso staccare il nichel è più semplice perché essendo tutte scariche le batterie non c'è problema di cortocircuito comunque ci sto sempre attento però quando mi capitano delle batterie dei pacchi batteria con celle che sono ancora funzionanti o almeno in parte e lì il lavoro si complica perché devo fare sempre molta attenzione con il cacciavite a toccare scollegare correttamente il nichel perché comunque bisogna fare forza ecco vedete ho scollegato l'ultimo filo il positivo che andava direttamente sul bms e sono riuscito a staccarlo qui gli do un'occhiata giusto per vedere se c'è qualche segno di bruciatura però spesso questi bms quando si rompono non si vede assolutamente nulla si rompono gli integrati e quindi non riuscite a capire se effettivamente funziona io infatti al termine lo vado a rimontare completamente e da lì riesco a capire se funziona o meno ora vado a scollegare tutte le lamelle di nichel facendo sempre attenzione a non unire i vari poli opposti delle celle però ripeto non è questo il caso dato che sono completamente scariche utilizzo sia il cacciavite per alzarle un po dopodiché con la pinza cerco di rigirare le lamelle per poterle togliere perché vi assicuro che quando sono attaccate alle batterie è difficile staccarle inoltre bisogna stare molto attenti perché sono affilatissime si creano quei piccoli spuntoni delle lamelle che se le toccate male vi tagliate mi è già capitato in passato qui ogni volta che tolgo una cella la ripulisco per bene e la metto già a caricare ovviamente posso caricare al massimo 4 alla volta in teoria poter utilizzare un altro caricabatterie che avevo modificato per poter caricare più celle alla volta queste 18 650 agli ioni di litio vi lascio il link qua sopra e inoltre ho anche un altro caricabatterie a due che non utilizzo lo mi serve solamente per emergenza comunque in questo caso non ho particolare fretta al mio amico per ora la bicicletta non serve quindi ho tempo per sistemarla per bene qui potete vedere il caricabatterie che sto utilizzando scollego le celle le pulisco e le piazzo nel caricabatterie come si può notare dal display le celle stanno a zero controllo tutte vedete una sta al 3 per cento inoltre il caricabatterie non le riconosce come ioni di litio ma come idruro di nickel perché sotto 1,5 volt per lui sono batterie all'idruro di nickel non ioni di litio con una tensione di 3,6 volt nominale infatti se ci fate caso facendo il controllo delle varie batterie una è al 99 per cento semplicemente perché sta a 1,5 volt una di quelle con la tensione più alta e dato che lui crede che sia un idruro di nickel per lui è al massimo della carica a un certo punto però cambia lo stato e quindi da idruro di nickel diventa ioni di litio la riconosce e riparte non da zero ma comunque da un 20 per cento nel frattempo che le prime quattro batterie si caricano smonto tutte le altre e le pulisco in modo da prepararle per la carica ovviamente non è detto che la carica abbia un esito positivo generalmente le carica sempre anche quelle a zero però quando arrivano al cento per cento quindi 4,2 volt le scollego e le lascio riposare se dopo tanti giorni le batterie sono ancora 4,2 volt o comunque sono scese di poco allora sono ancora buone generalmente fino a 4,14 volt le posso ricollegare in un pacco batterie per bici altrimenti le tengo da parte e possono essere utilizzate per test prove o qualsiasi altra attrezzatura come anche delle luci a led e ora sono arrivato al rimontaggio di tutto il pacco batterie con le stesse celle dato che si sono salvate tutte quante ogni cella ha mantenuto la tensione corretta oltre 4,15 volt perciò riesco a far funzionare tutto quanto correttamente il telaietto facilita l'intera operazione di montaggio e quindi posiziono tutte le celle correttamente anche in questo caso metto il turbo al video così non vi annoiate ora finché non comincia a saldare qualche batteria sono costretto ad applicare dello scotch attorno alle celle e al telaietto in modo da mantenerle ferme quando avrò applicato le prime lamelle di nickel lo scotch non servirà più e ora inizio con la saldatura taglio a misura le lamelle di nickel le posiziono e le saldo all'inizio metto giusto un punto per ogni batteria e successivamente ripasso per mettere almeno un secondo punto ora per farvi vedere meglio ho cambiato la prospettiva così si vede bene mentre effetto le saldature con le lamelle purtroppo quando le batterie sono usate bisogna cercare di togliere bene il nickel vecchio perché altrimenti la saldatura delle lamelle di nickel è più difficoltosa perché non va ad aderire perfettamente sulla superficie della batteria quando lavoro troppo in fretta sulla saldatura delle batterie la penna della saldatrice tende a scaldarsi perciò ogni tanto spengo la saldatrice per farla riposare la mia saldatrice a punti è buona ma comunque non è a livello di una industriale dopo aver messo le lamelle in orizzontale cominciò anche a inserirle in maniera tale da bloccare le celle e quindi allo stesso tempo tenerle salde tra di loro e far passare meglio la tensione tra di loro prima di aggiungere altre lamelle di nickel vado a dare qualche altro punto di saldatura su tutte le celle e ora vado ad aggiungere altre lamelle in modo da unire la parte positiva e negativa dei vari gruppi di celle perché questi pacchi sono sistemati in maniera tale da stare sia in parallelo che in serie le celle in parallelo servono per aumentare la corrente tutte quante in serie serve per aumentare la tensione e quindi raggiungere in questo caso i 36 volt nominali un lato del pacco batteria l'ho terminato adesso passo all'altro lato in questo caso però devo fare più attenzione perché se per errore vado a unire il nickel o mi casca per sbaglio una lamella di nickel tra diversi gruppi di celle rischio di fare un cortocircuito perché dietro ho già collegato tutto quindi vado ad applicare dello scotch carta del semplicissimo scotch carta in modo tale che anche solo mi casca una lamella non va a contatto con nulla ogni volta che termino una sezione vado a spostare lo scotch e continuo la saldatura e quindi Le lamelle di nichel che utilizzo sono lunghe 10 cm, perciò ogni volta è necessario prendere la misura corretta e quindi andare a tagliarle. Al termine del collegamento di tutte le celle vado a controllare che le saldature siano perfette e che non ci sia nessun tipo di movimento particolare che potrebbe causare un distaccamento. Adesso vado a saldare tutti i fili che vanno al BMS, il circuito elettronico che gestisce carica e scarica della batteria. Vado a fare lo stesso lavoro con lo scotch per evitare di andare a fare qualche cortocircuito. Aggiungo lo stagno dove voglio aggiungere i fili, dopodiché avvicino i fili e li vado a saldare sulla batteria. Lo stagno si riesce a mettere abbastanza facilmente sulle lamelle di nichel, però aggiungo sempre della pasta saldante per facilitare la saldatura. Qui il lavoro è lungo, perciò faccio andare il video in velocità. Ovviamente se avete bisogno di informazioni o consigli scrivetemi nei commenti e magari contattatemi. Se poi siete della mia zona possiamo anche vederci, magari vi posso dare una mano. Terminato il collegamento di tutti i fili, vado a controllare come posizionare il BMS, o meglio come riposizionarlo. Anche se qui ancora non sapevo che la colpa era del BMS. Però ovviamente sapendo che potrebbero esserci problemi con il BMS è solo un posizionamento temporaneo in modo tale da poter provare la batteria e se effettivamente il BMS non funziona correttamente lo stacco e tutti i fili li vado a collegare su un nuovo BMS. Qui vado a saldare gli ultimi fili, positivo e negativo, che vanno direttamente al BMS. Se notate ci sono dei punti gialli sul pacco batterie, semplicemente è del nastro termico che utilizzo per tenere fermi i fili. Allo stesso tempo vanno bene anche come isolante elettrico. Questo particolare nastro non è obbligatorio, però io preferisco usarlo proprio per evitare che magari, col calore o altri fattori, i fili per qualche motivo vanno a toccare altre celle creando qualche cortocircuito. Ma è una cosa proprio rarissima. Ed eccoci arrivati al momento fatidico, cioè la prova del BMS. Tenete presente che le celle sono tutte cariche al 100% e quindi l'uscita dovrebbe essere 42V o comunque non meno di 41,8V. Come potete vedere è sballata, non sta funzionando. Effettuo diverse prove per essere sicuro che il BMS sia difettoso. Dopodiché scollego tutto e passo al piano B, cioè aggiungere un nuovo BMS. Ho tolto il BMS vecchio e ne ho acquistato uno nuovo. Questa, a differenza dell'altro, non ha la possibilità di controllare lo stato delle batterie con un pulsantino. Perciò andrò ad escludere quella piccola scheda che sta sull'involucro di questo pacco batterie. Per il resto è tutto identico, devo solamente collegare tutti i fili al nuovo BMS. I fili collegati direttamente alle celle e che servono per la carica, scarica e il bilanciamento di tutte quante, non li vado a dissaldare. È più semplice andare a tagliarli e a collegarli ai fili del nuovo BMS. Per ogni filo che vado a saldare, utilizzo anche della guaina termorestringente per fare un lavoro preciso. In questi casi meglio non usare del semplice nastro isolante. Grazie. Al termine dei collegamenti bisogna anche cercare di ordinare il tutto in modo che non sembra un pastrocchio. Saldare i fili non è difficile, ma mantenerli ordinati è complicato. Grazie. Grazie. Adesso controllo che il BMS nuovo funzioni correttamente, ovviamente sì. Siamo a 41,3 volt dall'uscita del BMS e poi effetto un controllo in un'altra posizione. Però il BMS è nuovo, quindi difficilmente ha dei problemi. Ora non mi resta che collegare i cavi per la ricarica della batteria. Quindi sistemo tutto quanto in modo da poi inserirlo nell'involucro. Però prima di chiudere andrò a verificare che l'alimentatore funzioni correttamente. A questo punto dopo aver verificato tutti i collegamenti e quindi anche l'alimentatore vado ad immobilizzare con della colla calda sia il BMS che i fili in modo tale che all'interno dell'involucro non ci sia niente che si possa muovere. Grazie. 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 Ed eccomi è arrivato al termine della lavorazione. Chiudo l'involucro in modo tale che tutto sia sistemato perfettamente. il positivo e il negativo che vanno direttamente a contatto con quelli della bicicletta. Come potete vedere la tensione in uscita è corretta. E per finire vado a collegare il caricabatterie per controllare che tutto funzioni correttamente. Ricontrollo l'uscita con il caricabatterie collegato ed effettivamente sta caricando. Non ci ha messo molto perché comunque la batteria stava già bella carica. Ed ecco qui a termine carica controllo 41,9. La batteria è perfettamente carica e funzionante. Anche dopo qualche giorno è ancora 41,9. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione. Mi raccomando iscrivetevi al canale. Magari mettete un like e condividete. E noi ci vediamo al prossimo video. E noi ci vediamo al prossimo video.